Giulia Marconato, ben arrivata a Trenti, innanzitutto, riduzione da un'estate impegnativa con la nazionale e c'è soddisfazione per questa medaglia d'argento, immagino? Molta, molta, sì, sì. Siamo partite quest'estate, abbiamo iniziato a maggio con questo gruppo un po' inedito infatti eravamo un misto tra 2003 e 2004 e diciamo che ci siamo tolte abbastanza soddisfazione abbiamo fatto un buon percorso, crescendo partita dopo partita, quindi sono molto soddisfatta Arrivi verso la fine della terza settimana di preparazione, però partite ufficiali ne hai già giocate tante quindi la condizione sarà sicuramente buona? Sì, 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 diciamo che non essendomi quasi mai fermata durante l'estate arrivo abbastanza pronta Cosa ti aspetti da questa nuova avventura a Trento? Beh, allora personalmente di crescere, di poter dare il mio contributo alla squadra nel momento possibile e dito che c'è comunque abbastanza soddisfazione durante l'anno cercando appunto di impegnarci a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissate Nel prossimo giorno arriverà anche Gates, quindi sarete già al completo e ci sarà qualche settimana di tempo, più di un mese di tempo per preparare la prima giornata di campionato Sì, 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 adesso tra un po' inizieranno anche le prime amichevoli poi saremo il gruppo completo, quindi riusciremo ad allenarci e prepararci al meglio all'inizio di questo campionato Sì, 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 sì... Sì, 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 sì...